Il Presidente Oliverio Abbiamo investito circa 2 milioni e mezzo di euro. Posso dire, ha concluso Oliverio, al termine della visita, di essere soddisfatto per come stanno procedendo i lavori in questo sito, che rappresenta un patrimonio storico-culturale di inestimabile valore nel percorso della Magna Grecia. Il Presidente è stato accompagnato dal Sindaco di Monasterace, Cesare De Leo. Rosaria Giovannone per la CNews24